Da domenica scorsa, Fano, così come le città di Fossombrone, Cagli e Pergola, hanno un nuovo vescovo. Secondo l'ordine cronologico stabilito dalla diocesi di Fano, Andrea Andreozzi è l'ottantaseesimo vescovo della città, a cominciare da Tolomeo, discepolo di San Pietro, che morì martire nel 74 d.C. Dopo di lui furono pastori dell'antica Fano un fortune, Eusebio, la cui esistenza però incerta, un vescovo di cui non si conosce il nome e quindi San Paterniano, che poi fu scelto come patrono della città. In seguito è lunga la lista dei vescovi che guidarono la chiesa di Fano, svolgendo non di rado anche un ruolo politico, nei momenti in cui questo, dai legittimi detentori, vacillava, salvando la città da gravi disastri. Dal dopoguerra ad oggi hanno retto la diocesi Vincenzo del Signore, che durante la ritirata dei tedeschi assunse anche il compito di Podestà, Costanzo Micci, Mario Cecchini, Vittorio Tomassetti, Armando Trasarti e ora Andrea Andreozzi. Andrea Andreozzi è stato consacrato vescovo su indicazione di Papa Francesco dal vescovo di Fermo, la diocesi che lo ha visto operare da prete, Rocco Pennacchio. Presenti il cardinale Gualtiero Bassetti, molti vescovi delle Marche dell'Umbria, la regione in cui Don Andrea ha svolto il ruolo di direttore del seminario regionale Umbro. Folta anche la presenza di preti, diaconi e fedeli, partiti da tutte e quattro le località della diocesi, insieme al sindaco di Fano, Massimo Seri, che ha seguito, come lui stesso ha dichiarato, commosso il rito. Fano TV ha trasmesso in diretta tutta la cerimonia, per cui anche chi è rimasto a casa ha potuto seguire questo evento importante per tutte le comunità delle valli del Metauro e del Cesano. Il momento culminante ha visto Monsignore Andreozzi stendersi su pino a terra su un tappeto rosso disteso di fronte all'altare, in un momento di grande raccoglimento. Quindi il Vangelo, pendente sul capo, riferimento e guida della sua missione, poi l'unzione con l'olio santo, l'imposizione delle mani, la consegna della mitra e del pastorale, momenti culminanti vissuti con grande partecipazione e intensità. Nel corso della cerimonia è stata letta la bolla papale con cui si comunica la nomina del nuovo Vescovo. Francesco Vescovo, servo dei servi di Dio, al diletto figlio Andrea Andreozzi, sacerdote dell'Arcidiocesi di Fermo e finora rettore del seminario Umbro, eletto Vescovo di Fano Fossombrone Cagli Pergola, salute e benedizione. Ti nominiamo e ti costituiamo Vescovo di Fano Fossombrone Cagli Pergola, sostenuto dall'aiuto divino e con l'assistenza della Beata Vergine Maria, sempre più chiaramente ti impegnerai a manifestare i salutari insegnamenti e il dietro annunzio del Signore Misericordioso. Quindi l'omelia pronunciata da Monsignor Pennacchio è stata incentrata sulla figura del Vescovo e sul suo compito di diffondere il Vangelo. Il Vescovo è chiamato a predicare il Vangelo con fedeltà e perseveranza. Per questo il Libro dei Vangeli verrà tenuto aperto sulla testa dell'ordinando durante la preghiera di consacrazione. E' chiamato a custodire il deposito della fede, in comunione con gli altri Vescovi e in filiale e obbedienza al Papa. E' colui che si prende cura del popolo santo di Dio e insieme ai presbiteri e ai diaconi lo guida alla salvezza. Il Vescovo è attento ai poveri, che sono immagine di Cristo e si interessa di quanti si smarriscono per edificare in unità il suo corpo che è la Chiesa. A questo punto la celebrazione della liturgia è proseguita nella forma solenne finché Monsignore Andreozzi, ringraziando tutti, non ha preso la parola. E' stato un intervento che ha emozionato il pubblico per l'ampiezza del suo orizzonte e la profondità del suo pensiero, un pensiero che è volato sulle stelle. Che cosa c'entra tutto questo con le stelle? Mi è servita questa frase per recuperare il cielo, per recuperare la luce migliore che ognuno di noi può riflettere davanti a Dio. E' il gusto di fare luce, di esprimere la parte migliore di noi stessi. E nel cielo, in cielo, c'è posto per tutti, grazie a Dio. Per fortuna che ci sono le stelle e che il nostro cuore si allarga sempre e guarda ad orizzonti infiniti, guarda ad orizzonti sempre nuovi. Infine, il saluto al suo greggio, la discesa sulla navata, la benedizione dei fedeli, dove è scatorito un applauso spontaneo che ha comunicato l'immediato affetto e simpatia suscitate tra il pubblico dal nuovo presole. E così Fano si appresta a riceverlo il 9 luglio prossimo al Pincio, all'ingresso monumentale della città. Grazie.